Sì, il 24 settembre è così, è avvenuto tutto molto casualmente, ho accompagnato in questo posto il parroco di Montalabate, in questo posto dove un'antichissima tradizione vuole sia stato martirizzato il patrono, Sant'Erenzio, nell'anno 250, e così il parroco viene dalla Romania, quindi è interessato a queste cose di storia, di tradizione locale, e mi ha chiesto appunto di essere accompagnato per vedere questo luogo dove c'era appunto un tempo questo piccolo corso d'acqua, una vena d'acqua sulfurea dove appunto la gente veniva appunto a prelevare quest'acqua. E così poi parlando di questa tradizione ho detto al parroco che qua vicino c'era anche una casa colonica, il Ruder ormai di una casa colonica dove nacque, credo, ma comunque trascorse la sua infanzia Don Cesare Stefani, lo storico parroco di Tavuglia scomparso qualche anno fa, e così percorrendo questo viottolo di campagna che conduce al rudere di questa casa colonica, tra questa vegetazione, immersa in questa vegetazione, abbiamo scoperto questa piccola discarica abusiva, discarica di materiali, diciamo così, ingombranti, rifiuti ingombranti. La cosa ci ha colpito, tanto è vero che siamo fermati un po' a osservare la situazione, io ho scattato anche qualche fotografia e poi nei giorni successivi, così tornando a casa e ripensando a questa situazione, ho pensato insieme agli altri ragazzi dell'associazione di denunciare la cosa e di postare un'immagine di questa discarica sui nostri social per sensibilizzare la popolazione e anche per invitare la popolazione a segnalare altri abusi come questi. Per segnalare questi abusi come hai citato tu, una mappa della vergogna, l'hai chiamata così, vorresti creare, ovvero una mappa dove la gente che segnala va poi a riconoscere quali sono queste zone dove, come vediamo in questo caso, ci sono dei rifiuti che non dovrebbero essere qui. Esatto, sì, una mappa della vergogna, abbiamo così pensato di chiamarla, credo che sia una cosa doppiamente utile. Da una parte crea indigna alle persone, abbiamo visto anche dalle reazioni che ci sono state, e quindi crea una sensibilità anche da parte delle persone. e dall'altra credo anche che sia utile capire la presenza di queste problematiche e la diffusione di queste problematiche nel territorio sia utile anche per capire se i servizi di raccolta e di conferimento dei rifiuti, in special modo i rifiuti ingombranti, siano servizi che funzionano oppure sono servizi che abbisognano magari di un miglioramento o di un adeguamento.